Nel corso della serata di ieri, con un'introduzione decisamente originale, Apple ha presentato diverse novità, sia a carattere musicale che non solo, e adesso andiamo rapidamente a riassumere, nel caso vi foste persi, la diretta e ovviamente a commentarle insieme. Partiamo con la prima novità, che è a tema musicale, il piano vocale, il voice plan di Apple Music. 4,99 euro al mese per un solo utente, per avere Apple Music comandato però da Siri. Funziona solo su device Apple, ovviamente, quindi non potete utilizzarlo su dispositivi non della mela, e già questa è una cosa effettivamente squisitamente Apple, per rilanciare in un certo senso un po' anche il suo assistente vocale, perché questo piano appunto di Apple Music funziona solo tramite Siri. Non ha tra l'altro l'audio spaziale, che è uno anche dei punti forti di Apple Music generico, che rimane nell'abbonamento successivo, ed è strano in un certo senso forse che Apple abbia deciso di iniziare tutto, lanciando appunto un piano che non hai uguali nella concorrenza, e mi viene anche da chiedermi se magari Amazon o Google decideranno in qualche modo di imitare. È stato in un certo senso il là, questa cosa di Apple Music voice plan, la seconda novità che è un pod mini. Un pod mini che arriva anche in Italia, finalmente in tante nuove colorazioni, non solo sulla scocca, ma poi anche nella parte superiore. Un pod mini che lo state probabilmente intravedendo anche adesso in questa bellissima, come sempre, animazione e transizioni di Apple, questa casa sullo sfondo con i vari utilizzi appunto dello smart speaker di Apple, che costa, non ve l'ho detto, 99 euro, che sono un po' tanti. Se andiamo a vedere la concorrenza, soprattutto quella di Amazon, offre molte più alternative, molto più economiche, che bene o male dovrebbero essere lì in quanto a qualità musicale. Devo dire che ho un po' l'impressione che nell'ambiente domestico Apple si muova, più per i suoi utenti che in generale, nel senso che anche l'Apple TV, che sotto al televisore non credo riusciate a intravederla in questo momento, è uno di quei dispositivi che potete consigliare solo a chi sia già autente Apple, più che a un pubblico vasto. E lo stesso discorso probabilmente vale anche per questo HomePod mini, che di nuovo fa leva appunto su Siri, quindi se magari siete già abbonati al nuovo Apple Music Voice Plan, avete bisogno di uno speaker in casa con Siri per utilizzarlo, ecco appunto che arrivò un po' mini, però nuovamente per il pubblico generalista ci sono tante opzioni più economiche, più versatili. Staremo un po' a vedere, l'impressione mia appunto è che in ambito domestico Apple si muova in questo modo. Rimanendo sempre in tema musicale, la terza novità sono gli AirPods 3. AirPods 3 che io personalmente apprezzo davvero tanto perché non sono in ear, non hanno gommini come avete visto anche dall'animazione dietro di me, e sono diciamo una via di mezzo, un modo di aggiornare ovviamente i vecchi AirPods senza passare decisamente nel campo di quelli pro. Per chi come me non apprezza tanto gli auricolari near, sono sicuramente una valida alternativa. E poi tra l'altro ci sono miglioramenti anche con il supporto all'audio spaziale, invece in questo caso, che quindi fa un pochino a cozzi con il Voice Plan di Apple Music, ed un prezzo di 199 euro che in fondo era diciamo in linea con le aspettative, li recenseremo senz'altro prossimamente su mobileworld.it. Ma veniamo al punto forte, ovvero i nuovi Apple Silicon M1 Pro ed M1 Max, che poi andranno ad animare i nuovi MacBook Pro 14 e MacBook Pro 16. Apple ha insistito tantissimo giustamente sull'architettura dei nuovi M1 perché è il suo fiore all'occhiello, il suo orgoglio, è una cosa che soltanto Apple ha e che quindi rende questi processori unici sul mercato. Pensate che i precedenti M1 avevano 4 core ad alte performance e 4 core a risparmio energetico. Adesso i nuovi M1 Pro e Max hanno 10 core, dei quali 8 ad alte performance e 2 a risparmio energetico. Quindi i core ad alte performance sono letteralmente raddoppiati. È stata più che triplicata anche addirittura 6 volte tanto la banda passante per la memoria, il che significa che lo scambio di informazioni è veramente sempre più istantaneo. I core grafici da 8 degli M1 arrivano fino a 16 negli M1 Pro e fino a 32 negli M1 Max. Quindi è davvero un salto importante anche in termini poi di consumi, ma su questo Apple ha insistito tantissimo rispetto alla concorrenza che non viene mai nominata, ma è abbastanza chiaro che si parli di Intel o comunque in generale dell'architettura X86 nonostante i consumi decisamente superiori a quelli dei vecchi M1, almeno al picco delle performance, i nuovi M1 Pro e Max sono decisamente inferiori rispetto ai consumi della concorrenza di stampo appunto X86, tanto che anche laddove si arrivasse ad avere un concorrente in grado di fare un po' di più, lo farà con un dispendio energetico enormemente superiore. Questo poi si traduce in minore autonomia, maggiore rumorosità delle ventole, temperature superficiali più elevate. Anche con i nuovi MacBook con M1 Pro ed M1 Max, Apple promette comunque autonomie dal record, grazie appunto alla parsimonia dei suoi M1 Pro e Max nei compiti quotidiani e in generale comunque anche quando sono sotto stress, una cosa che a me è sempre piaciuta evidenziare anche nella prova di M1 è il fatto che sia a batteria che alimentati tramite caricatore appunto non cambia assolutamente niente. Che voi siate in mobilità o che siate attaccati alla presa di corrente, avete praticamente le stesse prestazioni, cosa che invece non vale soprattutto sul fronte grafico nei portatili Windows, magari con grafica discreta che hanno per forza bisogno del loro bello alimentatore, magari anche da più di 200 Watt per performare al meglio. Nuovamente anche con gli M1 Pro e Max, nonostante ci sia stato un salto di performance notevoli rispetto ai primi M1, Apple insiste su quella che secondo me è la chiave di lettura corretta per questi chip, cioè le performance per Watt. Il fatto che consumando poco siano in grado di darti tanto e che anche quando consumano tanto, ti danno tanto di più a parità di Watt proprio rispetto alla concorrenza. E questa è una cosa che nell'uso quotidiano, e ve lo dico da utente M1 ormai quasi da un anno, si sente tantissimo. Perché sentirete poco le ventole, perché il portatile sarà sempre freddo, perché sarà sempre fluido, bene o male, in ogni situazione, anche quando è sotto stress. E questa è una cosa non da poco che nell'utilizzo di tutti i giorni si fa apprezzare tantissimo da chi utilizzi un notebook come un notebook, cioè appunto in mobilità. E poi sono arrivati loro, ovviamente, ovvero i nuovi MacBook Pro 14 e 16 pollici. Tante porte in più, se ne va anche la Touch Bar, ritorna l'HDMI, ritorna il MagSafe. Il connettore è diverso da quello dal passato, ma il concetto è comunque sempre quello di un connettore proprietario. Rimane la possibilità di ricaricare i vostri MacBook nuovi tramite le tre porte USB-C presenti. Fatto sta che, diciamo, il meccanismo di ricarica preferito è quello tramite MagSafe, perché appunto vi assicura una facile disconnessione. È, da un certo punto di vista, un po' un tornare indietro, perché comunque è una porta proprietaria di ricarica, non è universale come l'USB-C. In ogni caso, se aveste un caricabatterie USB-C, potete utilizzarlo. Tra l'altro, il caricabatterie fornito ha una porta USB-C proprio sul caricabatterie stesso, quindi vi basta un cavo USB-C-USB-C per ricaricare appunto il vostro Mac senza l'utilizzo del MagSafe. C'è l'HDMI che non mi fa impazzire come idea, lo capisco. Voi magari siete in un ufficio, avete, non lo so, un proiettore col cavetto HDMI e lo collegate al volo. Fatto sta che esistono tranquillamente dei cavi da USB-C ad HDMI che quindi potevate impiegare per utilizzare appunto una delle porte USB-C. Ci sarebbe stata appunto un'altra, magari, Thunderbolt al posto di quella HDMI in modo da arrivare a quattro Thunderbolt anziché un'HDMI che non ha certo tutta la flessibilità che ha invece una Thunderbolt. Io, da questo punto di vista, avevi forzato un pochino di più le cose. Contentissimo del ritorno del lettore di SkySD full-size sia sul 14 che sul 16. Non c'è differenze di porte tra le due configurazioni ed ovviamente c'è anche però un cambio di design. Lo avete probabilmente intravisto sia alle mie spalle che nelle immagini di edi sera. Un cambio di design che fa un po' un richiamo al passato anche se il modello da 14 pollici dovrebbe essere bene o male comparabile al 13 in quanto ad altezza e peso mentre invece il 16 pollici è lievemente più spesso e più pesante rispetto al passato 16 pollici ma sono proprio delle cose veramente lievi. È un fatto semplicemente se vi piaccia o non vi piaccia questo design un pochino più stondato anche proprio nella parte inferiore del portatile stesso ma inutile girarci attorno si sta parlando adesso della tastiera e dell'abbandono della Touch Bar che onestamente vi dico la verità da utente Touch Bar un pochino io rimpiangerei non perché sia stata essenziale è chiaro che non abbia avuto il successo che Apple sperava gli sviluppatori non sono saliti sul caro della Touch Bar così tanto come Apple avrebbe sperato però una volta che ti ci abitui il fatto di poterla configurare come vuoi tu è comodo. Qui si ritorna ad una tastiera tradizionale lo state vedendo con tutti i tasti fisici il lettore di impronte digitali nell'angolo in alto a destra ma è inutile girarci attorno il principale elemento che ha fatto storcere il naso è la presenza del notch. Notch che siede lì nella parte alta del display adesso è saggiamente mascherato ma poi in realtà lo si vede è un display più alto del passato questo MacBook è in 16 decimi i nuovi MacBook sono più o meno in 14 noni è quasi un tre e mezzi in questo modo si Apple dice che ha ridotto ulteriormente le cornici là in alto non vi preoccupate per quando ci sono le app full screen perché il notch verrà completamente nascosto da una barra nera la visione di film non ne avrebbe comunque risentito perché ve l'ho detto siamo in un formato molto alto mentre i film sono tutti allungati quindi non ci sarebbe stato problema da quel punto di vista come avete intravisto però nell'interfaccia base del sistema operativo a meno che non usiate magari un tema molto scuro si nota è come quella tacca lì e non c'è il Face ID all'interno se ci fosse stato forse avrebbe avuto più ragione d'essere così in questo modo secondo me è soltanto una maniera per essere ancora più distintiva con una cosa che onestamente però se negli iPhone aveva ragione d'essere proprio alla luce del Face ID non lo so Intel direbbe andate a guardare la concorrenza Windows che cosa fa e troverete dei portatili Windows con cornici sottili e comunque una webcam lì in alto in questo caso full HD meno male che almeno è stata aggiornata dal punto di vista della risoluzione ma non c'era assolutamente bisogno di mettere quella tacca così grossa per avere una webcam full HD e per avere delle cornici sottili questo spero che sia chiaro a tutti quanti è ovviamente quella classica mossa di Apple secondo me per far parlare di sé e per rendere i nuovi MacBook ancora più riconoscibili rispetto alla concorrenza ma dal punto di vista dell'esperienza utente non mi pare che aggiunga assolutamente nulla e anzi rende un po' fastidioso quel blocchettino nero quando utilizzerete il vostro MacBook su uno sfondo chiaro certo va da sé che nulla fa parlare di sé come il nuovo pan da 25 euro per pulire MacBook Pro e non solo e tutti gli altri vagonate di dispositivi Apple ma quella è una facile polemica sulla quale non mi voglio dilungare guardiamo invece un attimino quello sul quale in molti giustamente si sono dilungati cioè i prezzi dei nuovi MacBook si parte con il modello da 14 pollici a 2349 euro ma attenzione perché a questo prezzo avrete una versione castrata vi ho detto che i nuovi M1 Pro e Max avevano 10 core ecco la versione base ne ha 8 ovviamente saranno due core ad alte performance in meno perché altrimenti non ci sarebbero più core ad alta efficienza energetica quindi attenzione proprio a questo modello perché è una versione di M1 un po' castrata non so come descriverla in altro modo e con 14 core grafici anziché 16 quindi nuovamente siamo di fronte ad un modello come era già successo in fondo anche nel MacBook Air con M1 che aveva un core grafico in meno se volete passare alla versione con 10 core sulla CPU e 16 core sulla GPU sono necessari 270 euro in più e da questo punto il paragone poi tra MacBook Pro 14 e MacBook Pro 16 si fa più interessante perché è vero che il 14 di base è più economico ma proprio perché ha diciamo questo escamotage di ridurre i core su CPU e GPU se li andiamo però a confrontare a parità proprio di processore e di core la differenza tra il 14 pollici ed il 16 pollici con la stessa configurazione è di soli 180 euro che se pensate bene che parliamo già di macchine che costano praticamente intorno ai 3000 euro in questo caso 180 euro a queste cifre non sono una differenza troppo elevata tanto che decidere tra 14 o 16 dato che sono praticamente paritari in tutto ve l'ho detto numero di porte, processore, configurazioni varie eccetera è solo un fatto un po' di esigenze vuoi la maggiore portabilità o vuoi lo schermo più grande che dovrebbe garantirti tra l'altro anche un pochino di autonomia in più grazie alla batteria che presumibilmente sarà maggiorata rispetto all'altro modello è appunto una mera questione di esigenze ma non di dimensioni mentre invece in passato tra MacBook Pro 13 e MacBook Pro 16 c'erano proprio delle differenze importanti in termini di prestazioni che in questo caso invece non abbiamo e in fondo mi sta bene così non ho insistito poi molto su altre caratteristiche come il display che è un mini led tra l'altro quindi sarà luminosissimo e non ho dubbi sul fatto che saranno dei display eccezionali perché Apple è sempre stata molto attenta a questo aspetto è un peccato che con dei display così belli con un audio che in questo caso avrà anche qui 6 speaker del vecchio MacBook 16 Pro anche su tutti i nuovi modelli anche sul 14 e quindi sarà senz'altro di alto livello è un peccato ancora di più però secondo me quella cosa dell'attacca che va a incidere negativamente su un display che sarà senz'altro eccezionale non vi nascondo che è una cosa che non ho mandato giù dei nuovi MacBook rispetto all'M1 che ho io più che le performance che sono performance pensate per utenti davvero molto pro non per lo youtuber come il sottoscritto qui è davvero per chi sia videomaker per chi lavori con fotografie gigabit perché si arriva fino a 64 gigabyte di memoria cosa che invece qua eravamo limitati a 16 64 gigabyte solo con l'M1 Max 32 con l'M1 Pro insomma sono macchine davvero davvero molto pro e quindi destinate appunto ad una nicchia di utenti rimane secondo me un peccato nonostante io invidi la loro magari potenza in più ma soprattutto il gran numero di porte in più la presenza della SD che per me sarebbe comodissima gliela invidio senz'altro invidio il nuovo schermo che sarà bellissimo non riesco ad invidiare il notch e sono anche un po' contento perché in questo modo sono più contento di tenermi il mio vecchio M1 ditemi anche voi che cosa ne pensate nei commenti dei nuovi prodotti di Apple ovviamente la parte da Regina l'hanno fatta i nuovi MacBook ma ci sono anche altre novità come abbiamo visto se avete delle osservazioni da fare lo spazio dei commenti è ovviamente aperto se non siete d'accordo con me tanto meglio almeno ci confrontiamo ma se il video vi fosse piaciuto mi raccomando un bel like condividetelo almeno il modo migliore per supportarci da parte mia come sempre un saluto e alla prossima ciao 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 ciao